mettiamo olio uno spicchio d'aglio delle foglioline di alloro un crito di setano, carota e cipolle che io tengo sempre pronto già sul gelato ci manca anche il pepe in grani ma io non lo metto perché devono mangiare i bambini e poi metto la polpa di pomodoro posso anche far insaporire un po' prima questo soffritto che non è soffritto perché con magic cooker non viene soffritto nulla però io faccio tutto insieme ancora più leggero e più saporito anche metto il coperchio e accendo fiamma alta io sto usando oggi il coperchio smart dynamic quindi fiamma alta finché non si alza la calotta allora si è alzata la calotta quindi adesso abbasso la fiamma faccio un cuocere ancora qualche minuto prima di mettere le polpette rigorosamente una diversa dall'altra di misura vabbè ce ne andrebbero qui dentro ancora molte altre tanto questi sono solo per i bambini sono più che sufficienti copro e accendo metto fiamma alta tanto che riprenda un pochino il bollore e poi di nuovo fiamma bassa allora ecco qui le polpette sono pronte allora ecco qui